23 arresti in tre indagini congiunte dei carabinieri coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze che mettono a nudo un sistema criminale che vede insieme gli interessi dell'Andrangheta a cominciare dal traffico di stupefacenti con quelli di imprenditori senza scrupoli alcuni dei quali direttamente legati alle cosche. Tre indagini che mostrano in maniera cruda il peso dell'Andrangheta in Toscana e anche il legame che unisce imprenditori toscani al sistema criminale. Al centro gli appalti pubblici, soprattutto quelli del Movimento Terra sui quali l'Andrangheta aveva stabilito una sorta di monopolio le ditte concorrenti venivano convinte a farsi da parte dagli uomini della Cosca Gallace che imponeva le sue aziende di riferimento come la Cantini di Vicchio ma non solo, i veleni di alcune concerie di Santa Croce finivano nei fiumi e nel terreno a gestire il tutto secondo le accuse Francesco Lerose titolare di una ditta che smaltisce rifiuti producendo inerti all'apparenza un sistema lodevole di economia circolare nella realtà un sistema che copiava quello dei casadesi nella terra dei fuochi. In questo caso abbiamo migliaia di tonnellate utilizzate come sottostrato di una strada e anche di altre opere, anche private. La strada della quale parla il procuratore è la SRT 429 Empolese qui nel quinto lotto l'Andrangheta ha sepolto, pensate, 8.000 tonnellate di rifiuti tossici. Le indagini adesso puntano al legame tra personaggi dell'Andrangheta con esponenti alla pubblica amministrazione. I Gallaci avevano una mano anche sul porto di Livorno da dove facevano arrivare centinaia di chili di cocaina. A gestire per conto loro la droga era Domenico Vitale già finito in inchiesta dall'antidroga calabrese presenze non occasionali ma ormai radicate nel territorio toscano. Il valore aggiunto di queste indagini, di queste indagini, di questa procura dissettuale è quello di aver preso in tempo un fenomeno che portato avanti avrebbe sicuramente portato a conseguenze più gravi.